siamo con francesca castagneto uno dei protagonisti della vittoria di oggi del san desiderio un tuo commento sulla partita è stata una bella partita mi ha avuto un calo nel secondo tempo anche dovuto al fatto che abbiamo giocato giovedì però abbia reggito la squadra siamo un bel grifo e abbiamo portato a casa ecco una doppietta per te una cosa un po strana cosa ne pensi ma strana nasco attaccato e poi mi ha dato per la squadra gioco ovunque davvero sono contento ecco settimana prossimo uno scontro importante ci arrivate bene di testa e come la vedi aspettiamo non vedo l'ora davvero grazie mille e in bocca al lupo grazie grazie a voi